Buongiorno, bentrovati. Mattino 6 di mercoledì 18 novembre 2015, apriamo la nostra consueta rassegna stampa con le prime pagine dei nostri quotidiani. Partiamo dal centro, dalle edizioni del quotidiano d'Abruzzo, partiamo da quella di Pescara per vedere i titoli in prima pagina che ritroviamo proprio in quest'istante. Purtroppo una notizia di un ennesimo incidente mortale nella nostra regione, vedete il titolo a tutta pagina, madre e figlia morte nel rogo d'auto, scontro a Barisciano nei presi dell'Aquila, macchina si incendia, tra i feriti c'è un popolese. Purtroppo le due vittime sono madre e figlia che vedete inquadrate in questa foto. E poi la vicenda del preside in cella che diventa un caso, si parla di Grazia. Parliamo del preside arrestato, l'ex preside del convitto dell'Aquila dopo il crollo avvenuto nel terremoto. Poi nelle cronache, tornando a Pescara, c'è questa 78enne denunciata per rapina impropria per aver rubato da una borsa l'incasso dell'ortofrutta. E poi la protesta ieri a Pescara, mille studenti in piazza con gli strigioni, c'è stato anche il ricordo, un minuto di raccoglimento, per gli attentati in Francia. Poi la soprintentenza dice no al ponte del cielo, stop al pontile, vincoli su mare e scoglie. Poi una notizia che riguarda il delitto ceci perché c'è l'archiviazione, nessuna prova a carico dei tre indagati resa della procura. Lasciamo l'edizione di Pescara del centro, andiamo a vedere, tra qualche istante lo faremo, l'edizione di Chieti, Lanciano Vasto, del quotidiano d'Abruzzo, per vedere insieme in questo caso quali sono stati i titoli scelti. Per questa edizione ovviamente anche nelle altre edizioni del centro c'è il richiamo a questa tragedia avvenuta ieri a Barisciano, come vedete con l'incidente mortale. E poi la vicenda di Chieti del tentato accoltellamento, ero furioso ma non l'ho accoltellato, resta in carcere per il tentato omicidio del cognato. L'avvocato dice ma non è violento e dunque per la procura ci sono indizi gravi rispetto a questa persona. Poi vedremo all'interno, andremo a vedere l'articolo che riguarda proprio questa vicenda. E poi scegli il sindaco, pioggia di voti, Paolucci in testa, Lanciano, a Vasto, dei siati sprint, Vasto va verso il centro-destra. Si parla anche di elezioni amministrative che ci saranno in primavera. Andiamo a vedere ora l'edizione di Teramo, sempre del quotidiano Il Centro, e poi chiuderemo con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Apriamo la prima pagina del centro-edizione di Teramo, un attimo solo, e andremo a vedere quali sono i titoli della prima pagina, in questo caso dell'edizione di Teramo del centro, che apre con questa notizia, licenziate l'autista con la droga, l'appello ribalta la sentenza di primo grado che dava torto all'arpa questa vicenda accaduta nel Teramano. Poi c'è il richiamo sempre all'incidente mortale di ieri, e poi i titoli nelle cronache, ex manicomio D'Alfonso, presidente della regione, dice lo recupererò. E poi Baltur apre nuove linee in tutta Europa, presentato un piano da 20 milioni. E poi Atri prepara un altro corteo per l'ospedale contro Regione e Asl. E chiudiamo con le edizioni del centro, andando a vedere quella, come dicevamo, di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Ovviamente nell'edizione dell'Aquila c'è il richiamo a tutta pagina, anche nelle pagine interne. Ci sono più articoli su questo incidente mortale di Barisciano. Vedete, e poi una notizia invece che arriva dalla Marsica, da Avezzano ragazzo tenta di accoltellare la mamma, ma il quindicenne si è scagliato contro il genitore e i fratelli dopo una sgridata. E poi altre due notizie. Una arriva da Sulmona, preso il boss della Camorra, abitava a Sulmona da due anni, e poi Avezzano, blitz dei Nassi, nello sgabuzzino, trasformato in un ospizio, cinque anziani, nell'ala abusiva. Chiudiamo con le edizioni del centro. Passiamo al messaggero per andare a vedere la prima pagina e dunque iniziare a dare uno sguardo ai titoli anche di carattere nazionale e internazionale con gli attentati di Parigi, le indagini dopo questi attentati, ovviamente in primo piano e anche un po' psicosi in Europa. Vedete il terrore, ora scuote la Germania. Hannover, allarme e bombe, evacuato lo stadio dove era attesa anche la cancelliera Angela Merkel. Chiusa la stazione, Francia, Salah chiamò per la fuga, venite a prendermi, pagò la benzina, caccia ad un altro killer. Vedete lo stadio di Hannover, desolatamente vuoto, diciamo evacuato poco prima della partita che è stata poi annullata. Le navi di Putin contro l'Isis e poi l'Unione Europea, aiuto militare a Parigi. E poi Valeria, lo strazio dei genitori, noi nell'abisso, la ragazza italiana uccisa al Bataclan. Andiamo a vedere le pagine interne, allora, del messaggero. Allarme e bomba, panico allo stadio, Hannover via tutti i tifosi dagli spalti, doveva essere in tribuna anche la Merkel, cancellata la gara Germania-Olanda, l'ipotesi di un ordigno pronto ad esplodere. Ieri sera Bologna blindata per l'incontro degli azzurri, c'è stata questa gara con la Romania terminata. Due a due, notte da brividi, invece a Wembley, 90.000 cantano la marsigliese in occasione di questa amichevole tra Inghilterra e Francia. E poi ad Istanbul, Turchia-Grecia, fischi nel minuto di silenzio. Parigi 2, i terroristi in fuga, il covo in un albergo di periferia. Trovato un cellulare del commando, l'ultimo sms. Ok, noi siamo pronti. Il secondo ricercato non è stato identificato e di lui non ci sono tracce. Vedete in queste foto di spalla alcuni degli attentatori, comunque sospettati di aver partecipato a questi attentati che hanno davvero scosso l'opinione pubblica internazionale. Salah, il kamikaze braccato dalla polizia, ma anche dall'ISIS. Questo giovane ricercato un po' in tutta Europa. Andiamo ancora avanti. Siria, Putin schiera le navi in campo. La Russia, uniti come contro Hitler. Il Cremilino bombarda assieme a Parigi. Lotta all'ISIS, siamo alleati dei francesi. Strategia militare comune. Il presidente russo riceverà Hollande il 26 novembre. Dunque Russia in primo piano, in prima fila per questa guerra all'ISIS. Un riscatto anche dell'ex URSS nei confronti degli Stati Uniti. Pagina 6, sì dell'Unione Europea a Parigi. Assistenza militare, bilancio flessibile per spese, sicurezza. Vertice dei ministri della difesa con Mogherini. Sostegno unanime, ok, alla clausola di assistenza per aggressione armata. È la prima volta che accade. Roma frena. Renzi dice che non si vince solo con le armi. Il premier però assicura che l'Italia è pronta a fare tutto quello che sarà necessario. I dubbi degli alleati sull'attacco. Solo Londra, pronta alla guerra. L'assenza di una politica comune di difesa complica l'impegno unitario. Kerry, segretario di Stato americano, vede Hollande. Gli Stati Uniti sperano in una maggiore iniziativa dell'Europa. Ma ancora una volta, come si vede e come si legge anche in questo articolo, manca una politica comune fra i vari Stati dell'Unione Europea. Valeria. Il bacio dei genitori, noi precipitati nell'abisso. L'ultimo saluto della coppia. La figlia morta al Bataclan. Un momento terribile. Il fidanzato e un amore stupendo. Le foto, i libri, i ricordi. E quel filo di perle. Vedete la foto di questa ragazza che ha perso la vita al Bataclan. I poteri degli 007, le parti speciali stretta del governo. Il premier potrà autorizzare operazioni di intelligence con i militari circolare di Panza. Ci saranno misure eccezionali negli Stati italiani. Panza è il capo della polizia. Dunque misure rafforzate anche negli Stati italiani. Vedete possibili obiettivi o comunque gli obiettivi sensibili. Il Vaticano, il Colosseo e l'aeroporto di Fiumicino, almeno per quanto riguarda la capitale. Meno liberi ma più sicuri i diritti nell'era del terrore. Concordi, esperti e giuristi. Niente leggi straordinarie e no a più intercettazioni. Per alcuni la privacy può essere limitata. Per altri il nodo e l'efficienza dei servizi. Ci sono pareri autorevoli di politici, ex magistrati, che dicono la loro proprio su questa questione. L'Islam radicale si dissocia, diciamo no, a quei killer. Nelle moschee che approvarono la strage di Charlie Hebdo, il clima sembra cambiato. Dura condanna dell'attacco, ma alcuni di quei centri rischiano comunque la chiusura. E poi c'è in basso l'intervista ad Edward Lutbach, il politologo americano, che dice metodi errati dagli 007 francesi, ma troppi i potenziali jadaisti. Timori per il Papa in Africa, ma Francesco vuole partire. Allarme dei servizi francesi sulla tappa Bangui a fine mese, l'ONU invia 300 soldati la settimana scorsa e i suoi inviati presi di mira nella moschea, che dovrà visitare, e c'è timore dunque per questa visita del Papa a fine mese in Centroafrica. E in Nigeria, bomba di Boko Haram con decine di vittime. Proseguiamo con pagina 16, manovra dell'Unione Europea, si corriserva impegni a rischio su deficit e tagli, cambiamo argomento, parliamo di misure economiche, flessibilità congelata, il giudizio finale rinviato a primavera alla Commissione Europea potrebbe chiedere misure aggiuntive. Il ministro Padoan dice rispettiamo le regole, ma pesa il nodo. Conto investimenti, tasi, scontro per le case e i figli, canone e rai, ne bolletta in 10 rate, esenzione per l'immobile incomodato e aliquota ridotta. Per gli affitti agevolati, pacchetto su dal rischio, priorità rifondi alla sicurezza, nodo rinviato alla Camera e poi fisco, alle entrate arrivano dirigenti a tempo. Proseguiamo, Veronica cambia idea, Loris stava giocando, si è strangolato da solo. La vicenda dell'omicidio del piccolo Loris in Sicilia, a Ragusa, nuova versione della mamma del bimbo morto, soffocato dalle fascette, ho cercato inutilmente di salvarlo, questa la versione della madre. Movimento 5 Stelle, via Grillo dal simbolo, siamo alla politica, la decisione dopo un referendum sul web, ma l'ex comico resta il proprietario del marchio, scusate, dunque non ci sarà più la scritta Beppe Grillo sul logo del Movimento 5 Stelle. E siamo alla vicenda della morte della figlia di Albano, Ilenia fu uccisa nel 96 in Florida, una nuova pista americana, sulla base delle confessioni di un uomo in carcere, prelevato il DNA di Albano e Romina, dunque Romina Power, i due genitori di Ilenia, che è scomparsa dal 96, morte presunta per questa giovane, e proprio in queste ultime ore è uscita fuori questa notizia che potrebbe riaprire a questo punto le indagini sulla morte di Ilenia Carrisi. La incontrai in una stazione di servizio di Tampa, si faceva chiamare Susanne, proprio il nome che la ragazza si era scelto. E siamo alle pagine dell'economia, Banca Italia, rimpasto sul 10% del capitale nell'ambito della riforma del 2014, intesa unicredit generali, cedono parte delle quote a 5 enti previdenziali, e a Banca Piemonte il 5,7%, frutta la Superbanca 430 milioni, Piazza Gaia e Volenti ne incassa 240 per il 3,2%, mentre a Trieste solo 61 per lo 0,86. Dunque grandi manovre in Banca d'Italia, un po' per quanto concerne le banche italiane, poi appaltisi alle norme anticorruzione. La Camera vota a larga maggioranza, la legge delega che rivoluziona l'assegnazione dei contratti pubblici, procedure semplificate e più trasparenti, capacità di indirizzo e vigilanza all'ANAC guidata da Cantone. Lasciamo le pagine nazionali del messaggero, andiamo a vedere quelle del centro, anche in questo caso pagine di cronaca nazionale, poi inizieremo a guardare, a dare uno sguardo alle pagine di cronaca regionale. Siamo al centro, Putin e Hollanda, alleati per battere il califato, questo è il titolo, del centro di pagina 2, navi francesi e sommergibili russi nel Mediterraneo per potenziare gli strike. La UE accoglie l'appello di Parigi per la difesa collettiva prevista dai trattati. E poi vedete in basso, Mosca, Airbus distrutto da bomba, i servizi segreti dicono, usato ordigno artigianale pari ad un chilo di esplosivo. Ricorderete la vicenda di questo aereo russo esploso in volo qualche settimana fa. Renzi, intervento possibile, ma le armi non bastano, Pinotti esclude. Raid in Siria. Due terroristi in fuga, siringhe nei due covi, ritrovato il cellulare di uno dei kamikaze, con l'SMS. Ok, siamo pronti, fermato un secondo artificiere, i due negano, abbiamo solo, fatto da autisti. A Nover, stadio evacuato, trema anche la Germania, annullata ieri la partita tra i tedeschi e l'Olanda, dove era attesa la cancelliera Angela Merkel, sgomberate metropolitana, sala concerti e stazione, salta anche Belgio, Spagna. Siamo alla manovra del governo, canonerai, spalmato in dieci rate, dall'Unione Europea, via libera, con riserva, la legge di stabilità, esentati dai tributi sulla casa, a chi la cede, ai figli o ai genitori. scomparsa di Lenia, c'è una nuova pista, preso il DNA di Albano, ritroviamo anche sul centro questa notizia, poi in alto, Veronica Ciri, pensa, fu solo un incidente, parla Veronica Panarello, sulla morte del figlio, e poi a Napoli, violentata a tre anni, coppia in manette. Poi il caso De Luca, siamo in Campania, il CSM avvia il trasferimento, per il giudice Scognamiglio. Provincia, 2000 da ricollocare, il numero di addetti in esubero, che dovranno essere assunti, nella pubblica amministrazione. E siamo dunque, alle pagine d'Abruzzo, del quotidiano Il Centro, Mari e Fiumi, l'Abruzzo impari la lezione dell'estate. Gli ambientalisti del forum, invitano la regione, a modificare radicalmente, il piano di tutela delle acque, inquinamento e salmonella, non sono un caso. E poi si parla di manovre, contro il dissesto, dieci comuni si dividono, dieci milioni, fondi anche per le sedi, di protezione civile. Ieri c'è stata la visita, del governatore della regione, Luciano D'Alfonso a Teramo, che ha parlato proprio, di questa manovra, della regione, di questi fondi, che verranno utilizzati, proprio per combattere, il dissesto idrogeologico. Andiamo dunque, a vedere il servizio, che abbiamo realizzato. Sono dieci gli interventi finanziati dal Ministero dell'Ambiente, con una contribuzione di tre milioni di euro, sulle frane nei comuni montani del Teramano. Dieci milioni di euro, i fondi per la messa in sicurezza, degli edifici comunali, a carattere strategico, stanziamento, da parte della Giunta regionale. Ad annunciarlo, questa mattina, a Teramo, presso la Sala Consigliare del Comune, il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Sono convinto che si è fatto un grande lavoro. Prima di venire a Teramo, siamo stati al Comune di Chieti, abbiamo anche ragionato con la provincia di Chieti. Adesso verifichiamo qui, al Comune di Teramo, lo stato di progressione dei finanziamenti. Oltre a questo, poi presenteremo due elenchi, di nuovi finanziamenti, riguardanti 20 comuni, sia per la messa in sicurezza di edifici comunali, come sedi anche di strutture COC per la protezione civile, sia 10 interventi per 10 comuni per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico. Per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico, siamo praticamente in 15 mesi a circa 213 milioni di euro dati ai comuni. La Regione è ente di programmazione e di finanziamento. Noi non appaltiamo, non siamo stazione appaltante, nel 99% dei casi. Devo però dire che i comuni adesso devono procedere con sollecitudine a realizzare. Noi abbiamo fatto dei miracoli e continueremo a lavorare di anno in anno per recuperare lunghe stagioni quinquennali di disinteresse e di minimalismo per la manutenzione del suolo. Per quella che si chiama l'opera di riordino del suolo e del sottosuolo, anche di riordino del sistema delle acque. Noi ci siamo molto concentrati su questo fronte e abbiamo messo in campo qualcosa come 213 milioni di euro. E siamo ancora alla ricerca di risorse. Queste le dichiarazioni del governatore D'Alfonso sui fondi messi a disposizione per il dissesto idrogeologico. Andiamo avanti. Siamo sempre dalle pagine di Cronaca Regionale del Centro. La giustizia che fa discutere il presidencella diventa un caso. Cresce il Partito della Grazia. Bearsi è in carcere condannato per il crollo del convitto Cotugno dell'Aquila con tre giovani morti. Anche in città molti considerano la punizione eccessiva. A colpe relative non può pagare per tutti. E poi un'altra vicenda. La giustizia che fa discutere del turco un criminale. Il procuratore generale non la pensa così. Alla vigilia della sentenza d'appello, Carlo Troilo polemizza sul trattamento che fu riservato all'ex presidente della regione al momento dell'arresto. Andiamo ancora avanti. La scoperta in Molise. La speranza è blu con la bacca che sfida il cancro. A Bagnoni del Trigno si produce un integratore alimentare a base di prunzus spinosa e canne. Risultati incoraggianti. Dunque questa scoperta, questa ricerca che è stata fatta proprio in questo paese della provincia di Isernia apre nuove speranze per la lotta al cancro. Siamo alle pagine di Pescara del centro ma dobbiamo andare a vedere invece le pagine di cronaca regionale del messaggero prima di concentrarci come sempre, come ogni mattina, sul meteo con il nostro Giovanni De Palma. Prima del meteo vediamo le pagine dell'inserto regionale del messaggero. Prima pagina scontro. Muoiono carbonizzate. Terribile incidente sulla statale 17 a Barisciano. Le vittime sono una donna di rapino e sua figlia. Violento l'impatto frontale tra le auto. Un boato e poi le fiamme. Due i feriti non gravi. E poi antiterrorismo vertice regionale all'Aquila. E poi c'è questa fotonotizia che torna a parlare della visita dell'altro ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Appello proprio del Presidente che dice controlli sugli appalti. Seconda pagina di cronaca regionale. Mutuo per coprire i debiti. Decisione rinviata al confronto in consiglio. Parliamo di politica regionale. Il disegno di legge approvato in commissione ma resta bloccato. in attesa della seduta all'emiciclo del pronunciamento del Governo. Poi D'Alfonso 20 milioni per interventi contro i rischi idrogeologico e sismico. Abbiamo visto il servizio della nostra Elisa Leuzzo. E poi agricoltura, olio, ultimi giorni di lavoro per i frantoi. È stata una stagione straordinaria. E dunque alle 7 e 22, quasi 22 minuti, possiamo aprire come sempre la pagina del meteo con il nostro meteorologo Giovanni De Palma che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, continua ormai da giorni, direi da settimane, questo bel tempo, questo campo di alta pressione che ha assicurato temperature miti e tanto sole nella nostra regione. Ma le informazioni ci dicono che questo bel tempo, questo anticiclone avrebbe le ore contate o comunque i giorni contati. È vero? Eh sì, Paolo, sì perché questa vasta e stabile struttura di alta pressione che ormai da diverse settimane interessa il Mediterraneo centro-occidentale continuerà sì a favorire condizioni di tempo stabile sulla nostra penisola e sulla nostra regione fino a venerdì. Ma successivamente la tendenza è verso un deciso cambio di circolazione perché l'alta pressione inizierà ad attenuarsi, favorirà l'arrivo di perturbazioni di origine nord-atlantica, poi sospinte da masse d'aria molto fredda di origine artica che si riverseranno dapprima sulle isole britanniche, poi sull'Europa centrale e tra domenica e lunedì raggiungeranno anche la nostra penisola ma favorendo un deciso calo delle temperature anche sulla nostra regione. Ma la caratteristica principale di questo cambiamento, di questo peggioramento sarà il vento, il vento previsto molto forte, Paolo, a partire da venerdì sera ma ancor più nella giornata di sabato con raffiche davvero molto intense sulle zone montuose e sul versante orientale. Alla luce dei dati attuali a nostra disposizione non si escludono raffiche superiori ai 70, 90, 100 km orari sulle zone montuose ma localmente anche nelle principali valli della nostra regione. Successivamente invece nella giornata di domenica i venti inizieranno ad attenuarsi e le temperature inizieranno a diminuire piuttosto sensibilmente. Ci saranno dapprima dei fenomeni sul settore occidentale nella giornata di sabato e sulle zone montuose e poi il peggioramento, l'instabilità si estenderà verso il settore orientale. Con le temperature in diminuzione torneranno anche le nevicate, tornerà la neve sui nostri rilievi ma probabilmente, poi qui ovviamente bisognerà seguire gli aggiornamenti, anche al di sotto dei millimetri potrà nevicare tra lunedì e martedì perché poi si forma una piccola circolazione depressionaria che con le basse temperature potrà dar luogo a nevicate anche al di sotto dei millimetri. Quindi fino a venerdì sera non ci saranno problemi, continuerà il dominio anticiclonico, ci saranno comunque delle nebbie e delle boschie soprattutto sulle zone collinari e sul versante orientale della nostra regione, mentre splenderà il sole sulle zone alto collinari e sulle zone montuose con temperature ancora al di sopra delle medie stagionali. Anche se tra oggi e domani trasiterà un sistema nuvoloso caratterizzato da nubi alte e stratificate che non produrranno dei fenomeni che potranno però favorire degli annuvolamenti. Quindi detto ciò non ci sono sostanziali variazioni nelle prossime ore e nella giornata di domani. Poi da venerdì invece la situazione inizierà a cambiare, aumenteranno la nuvolosità, aumenteranno le temperature e inizieranno ad intensificarsi i venti che nella giornata di sabato, lo ribadisco, potrebbero essere davvero molto intensi sulla nostra regione, Paolo. Perfetto dunque, questa è la situazione anche abbastanza complessa dell'evoluzione meteo per i prossimi giorni. Io ringrazio come sempre Giovanni De Palma, grazie Giovanni, buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma, ma per restare aggiornati in tempo reale proprio su questa evoluzione del tempo che come avete ascoltato è destinato a cambiare nei prossimi giorni, nelle prossime ore e comunque nelle weekend potete seguire tutti gli aggiornamenti sul sito www.abruzzometeo.org del nostro Giovanni De Palma proprio con le notizie in tempo reale, proprio delle previsioni del tempo, vedete anche i live che arrivano dalla nostra regione e poi la pagina Facebook, il social network, importante anche per interagire con il nostro meteorologo proprio per restare aggiornati e informati sul tempo che ci sarà nella nostra regione, nelle prossime ore. Noi ci fermiamo a questo punto per qualche istante, torneremo poi per la seconda parte in studio, la seconda parte di mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6, pagine del centro, cronaca di Pescara, ponte del cielo, vincoli su mare e scogli. È arrivata la decisione della soprintendenza, la camicia di forza, come viene definita in questo articolo della soprintendenza. L'organo del ministero conferma il parere negativo sul progetto e raddoppia tutelata l'area fino a 100 metri dalla costa. Il sindaco Alessandrini dice devieremo i fondi sul teatro Michetti e il comune si sente libero di rifare lo stadio. Ma prima di parlare della questione stadio andiamo a vedere il servizio che invece parla proprio di questa decisione della soprintendenza Abruzzo. Francesca Romana Testi. Ponte del cielo bocciato dalla soprintendenza. Dopo le osservazioni mosse dal centrodestra del comune di Pescara, che tra le carte aveva addotto anche una lettera firmata a Tommaso Cascella, arriva la notizia. La soprintendenza ha definitivamente bocciato il ponte del cielo, ma era naturale che ciò avvenisse, perché quell'opera era assolutamente fuori contesto. Lo hanno detto tutti, lo ha detto persino Tommaso Cascella, il figlio del maestro Pietro Cascella, ha detto che quell'opera avrebbe sicuramente creato un vulnus nei confronti dell'opera d'arte del padre. Il centrodestra ora prende la palla al balzo per chiedere di spendere i soldi destinati a quell'opera in opere più necessarie e utili per la città. Adesso cerchiamo di ragionare su come utilizzare queste risorse, sicuramente si potrebbero utilizzare per eliminare quei detrattori ambientali che sono i pennelli di massi perpendicolari alla spiaggia, che oggi creano dei problemi e che invece potrebbero diventare quelli dei pontili fruibili in maniera leggera. Cerchiamo di ragionare per il bene della città. Il comune, come dicevamo, come stavamo vedendo prima, si sente libero di rifare lo stadio. La soprintendenza non ha ancora deciso se vincolare il vecchio impianto, ma il tempo è scaduto ieri, lo ha detto ai nostri microfoni l'assessore allo sport del comune di Pescara, Giuliano Diodati, che andiamo ad ascoltare. Per quanto riguarda lo stadio adriatico, nei giorni scorsi era arrivata anche in questo caso una dichiarazione della soprintendenza non proprio positiva per quanto concerne i lavori di riqualificazione dello stadio adriatico. A che punto siamo? Diciamo che noi il 17 luglio abbiamo ricevuto una nota della soprintendenza dove ci dicevano che avevano iniziato un provvedimento per mettere sotto tutela ambientale tutto lo stadio adriatico. Però i tempi erano 120 giorni. Noi a oggi, che è 17 novembre, non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ulteriore da parte della soprintendenza, quindi riteniamo al momento che questo provvedimento non abbia nessun tipo di valore. E quindi noi, così come stiamo facendo in questi ultimi tempi, proseguiamo nel percorso di studio di fattibilità per la risistemazione, per la ristrutturazione dello stadio adriatico. Noi entro fine anno avremo uno studio di fattibilità, sottoporremo questo studio di fattibilità alla città intera, nel senso che mia intenzione è quella di convocare un consiglio comunale straordinario. Ascolteremo gli ordini professionali, ascolteremo i portatori di interesse, ascolteremo i commercianti, ascolteremo tutti. Commercianti critici tra l'altro? Commercianti sì, leggo, critici, però voglio dire, noi siamo disponibili a fare tutto, contro un murino a vento non si può andare, allora deve essere un progetto condiviso da tutta la città. Queste dunque le parole dell'assessore allo sport del comune di Pescara, Giuliano Diodati, cambiamo argomento e anche pagina, delitto irrisolto, siamo sempre a Pescara, omicidio ceci, altra resa, la procura getta la spugna, non ci sono prove, a carico dei tre indagati, il giudice dispone l'archiviazione, il è movente, una vendetta per le spiate. Andiamo avanti, mense in cinque sospettati di corruzione, chiusa l'inchiesta, indagati ex dirigenti del comune, manager della Sir Food che gestisce la riflessione scolastica, il PM, assunzione sospetta. Lavori al reparto materno infantile, il PM chiede 22 anni per i sette imputati, processo per truffa e corruzione. E poi scuola e lavoro, cambiando argomento, orienta giovani domani all'istituto Tito Acerbo di Pescara. Ancora cronaca, sempre dal capologo adriatico, a 78 anni ruba l'incasso dall'ortofrutta e scappa, furto in un negozio di San Donato, altri due clienti tentano di bloccare l'anziana rintracciata dai carabinieri a casa, dice ai militari che siete venuti a fare, mica tengo la roba. E dunque questa arzilla vecchietta di 78 anni è stata denunciata a piede libero per il reato di rapina impropria. E poi vertice in questura dopo la strage, ne parlavamo prima in cronaca nazionale, aeroporto e stazione rafforzati. I controlli, ci saranno controlli rafforzati anche negli stadi, ad iniziare dalla gara di venerdì sera, lo stadio adriatico tra Pescara e d'Avellino, naia di caos tariffe, costretti ad emigrare, il presidente della società club acquatico replica di Renzo. I prezzi per usufruire dei servizi devono essere resi pubblici. Proseguiamo il corteo studentesco, girotondi e stricioni e la protesta dei mille. Aggiustate le scuole, piscina, rete internet, laboratori di cucina, nuove sedi, in piazza, la rabbia dei ragazzi e degli istituti superiori. Ieri anche il ricordo con un minuto di raccoglimento della strage che c'è stata nei giorni scorsi a Parigi. Difficoltà per negozi e turismo in città. La ripresa non si vede. Siamo a Francavilla. I dati dell'Istituto Irsel fotografano la crisi con la diminuzione di profitti ed addetti in tutti i settori. A Manoppello, luce al risparmio energetico per il campo. E poi tornando a Francavilla al mare, piscina bloccata da un anno, sfila la protesta. E poi San Giovanni Teatino, cinque sculture traslocano nel parco. Andiamo ancora avanti. Siamo alla pagina di Montesilvano del Quotidiano Il Centro. incrementate le risorse per le famiglie in difficoltà. Stanziati 60 mila euro e ampliata la convenzione con Caritas e azienda speciale nel 2014. Sono stati 170 gli assistiti per i pagamenti di affitti e utenze domestiche. Rifiuti a fuoco in una palazzina a Via Lazio. In fumo, legne e vecchi materassi abbandonati lungo la scala di servizio. Proseguiamo sempre dalle pagine dell'Interland di Pescara. Siamo a Spoltore, Fosso Grande. Chiusi i lavori di bonifica contro le esondazioni. E sempre a Spoltore scatta la pronta reperibilità dei dipendenti per le calamità. A Pianella, regole più severe per l'Orio Extravergine, il presidente dell'agroalimentare, dopo l'inchiesta torinese, giusta l'idea della DOP unica regionale. E poi la creatività degli annulli del Delfico nel gemellaggio Montesilvano-Foggia. E siamo alla pagina di Penne, Popoli e dell'Alta Val Pescara. Le sorgenti del Pescara premiate a Bologna. Le immagini della riserva naturale ottengono un importante riconoscimento. Il progetto già presentato a Roma nella sede italiana del Parlamento europeo. Penne, il sindaco chiede un altro rinvio per il punto nascita che dovrebbe chiudere nei prossimi giorni. Castiglione a Casauria, mostra storica sui comuni nell'abbazia di San Clemente. E a Penne punta 20 euro e ne vince 50 mila. Infine Popoli, Casale e Canapine. Gara a gennaio, entro il 24 novembre. La presentazione delle offerte per l'appalto. E siamo alle pagine dell'Aquila del Quotidano Il Centro. Questa notizia che ieri ha scosso tutto l'Abruzzo. Madre e figlia morte nel ruogo dell'auto. Frontale a Barisciano, la macchina si incendia. Vani tentativi di liberarle. La 24enne col padre accompagnava la mamma ad una visita. Un popolese è rimasto ferito. Ma su questo incidente andiamo a vedere il servizio che ha realizzato Andrea Costantini. Moglie e figlia morte carbonizzate. Il capofamiglia si salva per miracolo ed è ferito gravemente anche se non corre pericolo di vita. Questo è il drammatico bilancio dell'incidente mortale avvenuto oggi sulla strada statale 17 all'altezza del comune Aquilano di Barisciano. Due le auto coinvolte, secondo quanto appreso dalla polstrada che ha svolto i rilievi, una Hyundai sulla quale viaggiava una famiglia di Rapino in provincia di Chieti e una Ford Focus Station Wagon con il solo conducente a bordo. La Hyundai ha preso fuoco dopo l'impatto frontale andando quasi completamente distrutta. Le due vittime sono Maria Concetta della Valle di 51 anni e la figlia Santa Medaglia di 24. Il padre e marito è in ospedale, così come il conducente dell'altra auto, un 54enne originario di Popoli in provincia di Pescara. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco dell'Aquila e due autoambulanze del 118. I rilievi sono stati coordinati dall'ispettore della stradale Antonio Mara. I corpi delle due persone decedute sono rimasti a lungo all'interno dell'abitacolo in attesa del recupero. L'accaduto, tra le altre cose, ha provocato pesanti disagi al traffico. Si è creata una lunga coda con le auto che riuscivano a invertire la direzione, ma i mezzi pesanti rimasti bloccati. Avete visto le terribili immagini della macchina andata a fuoco. Siamo a Sulmona, preso il boss della Camorra, finto malato. Abitava nella cittadina Peligna da due anni, gestiva gli affari della cosca napoletana. Si sospettano tentativi di infiltrazione in Abruzzo e nella ricostruzione post-sisma. E poi, sempre a Sulmona, la 3G cerca volontari per autolicenziarsi i dipendenti del call center. Hanno tempo fino a venerdì per accettare, o meno, gli esodi incentivati. Andiamo ancora avanti. Terra, motista arrestato per Mariana. I giudici, licenziamento giusto. L'ARPA lo aveva mandato via dopo il patteggiamento, ma il giudice del lavoro lo aveva reintegrato. I magistrati di secondo grado accolgono il ricorso dell'azienda. Ora si va in Cassazione e poi a Colledara. Oggi i funerali dell'uomo investito, la moglie, fortunatamente sta migliorando, migliorano le condizioni della donna in ospedale. E poi domenica a Civitella del Tronto, una gara podistica nel bosco dedicata a Melania Rea. Ieri vi abbiamo proposto il servizio di Elisa Leuzzo, proprio su questa manifestazione, anche in ricordo della giovane donna, Melania Rea, uccisa alcuni anni fa in provincia di Teramo. E siamo alle pagine dello sport. Siamo arrivati alle pagine dello sport del centro, ma dobbiamo andare a leggere il messaggero, la cronaca locale e poi la città di Teramo. Partiamo dal messaggero, cronaca dell'Aquila. Più controlli e tasse, l'appello a Mattarella nel corso della sua visita al Presidente della Repubblica. È stata sollecitata la necessità di norme più rigorose sugli appalti privati. Anche il procuratore Cardella ha condiviso, attendiamo regole precise per limitare l'azione della magistratura. E poi l'Università centrale nello sviluppo, ma i dati sul calo studenti, dividono ancora. E poi una notizia che riguarda il calcio, le inchieste sul calcio. Partita truccata col Savona, tre indagati nell'inchiesta partita da Catanzaro. Nuovi guai per Ercole Di Nicola e per l'allenatore dei Liguri di Napoli. Proseguiamo. Marocchino, rapina 16enne con un coltello. Protagonista, un giovane di 24 anni, risultato con precedenti per fatti analoghi. Ora è a domiciliari, la vittima è uno studente. Il grave episodio in pieno giorno lungo la scalinata di San Bernardino ha fatto scattare un blitz dei carabinieri. Antica cinta muraria, passi avanti per l'adozione e poi appalti pubblici anche per i luoghi di culto. L'emendamento della senatrice di NCD Chiavaroli. E poi circolo tennis dell'Aquila al via la riqualificazione. Centro turistico, nominato il nuovo presidente. Proseguiamo. Pagina di Avezzano Sulmona. Continuava a gestire i clan dalla semilibertà, arrestato camorrista. Francesco Mallardo guidava l'auto senza avere la patente. Per lui ordine di custodia, omesso dal GIP del Tribunale di Napoli. E poi a Tagliacozzo, in Marsica, il dossier su Marsi e Consorzio. In Parlamento, Pescasseroli, furti in case e negozi e allarme nel piccolo centro dei pressi del parco. E poi di nuovo in Marsica, truffe a raffica. La confartigianato lancia la campagna sicurezza agli anziani. E poi Pietrucci, il consigliere regionale con Ceglie. Sosteniamo. Avezzano si parla di ferrovie, dunque di collegamenti con la capitale e anche con gli altri centri dell'Abruzzo. Siamo a Pescara, Ponte del Cielo, bocciatura definitiva. Abbiamo visto pochi istanti fa il servizio sul no della soprintendenza Abruzzo. Il sì di Spalletti, purché fatto con criterio. Il no di Magri, continuano ovviamente le opinioni di importanti artisti, anche pescaresi e non solo. Studenti europei e turchi, ospiti del classico. Il liceo pescarese è il partner italiano del progetto Erasmus. Quattro giorni per diventare cittadini del continente. E poi Nicoromito, lo chef in campo per la prevenzione dei tumori, Giorgio Pasotti. Un attore, svela il cinema alle scolaresche. E poi con Mussolini Socialista si apre l'attività dell'Istituto Crociano al Media Museum. La presentazione del libro di Gentile e Scala. Un ricco programma fino a maggio. E poi dai Cascella ai Normani, cinque belle storie. Da Abruzzo tornano all'Aurum le conversazioni di Camillo Chiarieri. Tra i temi anche i miti e la presenza dei Benedettini. Appalto Asle, condannateli tutti per la ricostruzione del reparto materno-infantile. Il PM Gennaro Varone ha chiesto pene per oltre 22 anni. Il funzionario dell'azienda Nintino, il costruttore pugliese Piancone ed il tecnico Piscitelli rischiano 4 anni e 8 mesi. Il piano del questore, antiterrorismo, artificieri in aeroporto e stazione. Dunque controlli rafforzati dopo quanto accaduto in Francia. E poi operazione della direzione marittima tra Abruzzo e Molise. Trovato pesce non tracciato in un ristorante orientale. E poi la cronaca, abbiamo visto anche dalle pagine del centro. A 78 anni, il debutto come rapinatrice, denunciata nonna terribile a San Donato. Siamo la pagina di Chieti del messaggero auto a fuoco dopo frontale carbonizzate madre e figlia. Abbiamo visto poco fa il servizio di Andrea Costantini su questo terribile incidente. Tentato omicidio del cognato, Di Nenno resta in carcere. La difesa del giovane non voleva uccidere. Il GIP pericolo di reiterazione del reato. Mobilitazione all'Ateneo, ci tolgono risorse vitali. Dunque mobilitazione all'università d'annunzio. E poi sempre a Chieti, frane, palazzi e sociali. Il comune vuole 10 milioni. Incontro tecnico fra sindaco e governatore. In ballo anche i fondi per la discarica. Siamo la pagina di Lanciano-Vastortona. Tre auto incendiate nella notte. Lo scoppio degli airbag aggiunto al crepitio delle gomme. Hanno allertato sia i residenti che i vigili del fuoco. Il rogo lungo una strada privata in località Santa Croce. Gli inneschi con la benzina sono stati piazzati sotto i mezzi. Abbasto in fiamme una panda ancora in via casetta. E sempre tornando a Lanciano, palazzo di giustizia. L'ultimo deve chiudere la porta. E poi aerosol terapia stop. La rabbia dei pazienti a vasto caos al distretto sanitario. E da giugno, che aspettiamo, ma non arriva nessun segnale, dicono gli utenti. E poi a Lanciano torna Agroalimenta con una nuova sezione. Infine Ortona. C'è un titolo che riguarda anche la cittadina in provincia di Chieti. Da dicembre sorveglianza sul territorio. Proseguiamo pagina di Teramo del messaggero. Una battaglia per l'ex manicomio. Il presidente della regione D'Alfonso, ospite del sindaco. Una priorità, dice il recupero della struttura di porta Melatina. Il governatore si tratta di un'opera faro da perseguire, superando anche tutti i numerosi intoppi amministrativi. Un dipendente della Frata Arcangeli, iscritto nel registro degli indagati, ha 24 ore dal blizze negli uffici comunali per acquisire atti sul bando per gli scuolabus. Vicenda di cui si è parlato tanto anche nelle scorse settimane. E poi le spine, edifici fatiscenti, demolito l'ex collegio. La decisione presa dalla AS, la struttura di Porta Romana, una minaccia per i passanti. Siamo alla pagina di Giulianova Roseto Valvibrata. Sindaco conferma Verdecchia e Digiacinto, forse un solo assessorato alla lista civicamente. Così sarà salvato il delegato ai lavori pubblici. Parliamo del rimpasto di giunta Giulianova. Il PD ha insistito per uno dei consiglieri comunali, ma in giornata si è parlato anche di Vanni ed Andre Nacci. A Tortoreto, ondata di furti, nasce il Comitato di Sicurezza dei Cittadini. Giulianova, scuole, elezioni al primo circolo, in bilico. Alcuni genitori chiedono la riconta dei voti. E poi Roseto, più sicurezza per le cittadine con i corsi gratuiti di prima difesa. Vi abbiamo ieri proposto il servizio su questa iniziativa. E ad Alba Adriatica, piazzate 22, telecamere. Ecco la video sorveglianza. Siamo alle pagine dello sport, ma prima dobbiamo andare a leggere insieme invece le pagine del quotidiano La Città di Teramo. Prima pagina del quotidiano La Città. D'Alfonso fa la sua lista della spesa. Il governatore a Teramo per gli interventi prioritari. Manicomio e cabinovia sono per l'università. Andiamo a vedere le pagine interne. Abruzzo, la sovrintendenza dice no al ponte del cielo. E poi salute tra eventi per favorire la diagnosi precoce dell'autismo nei bambini. E poi cronaca, pesca di frodo irregolare, blitz della guardia costiera, controlli a tappeto tra Abruzzo e Molise. Siamo a Teramo, da Alfonso Stila l'agenda delle priorità. Il governatore ieri a Teramo per annunciare gli investimenti della regione sulla città e sulla provincia. Abbiamo visto prima il servizio. Ci sono progetti che riguardano l'ex manicomio, la cabinovia, il quarto lotto. La discarica, i fondi PISU e la viabilità cittadina e provinciale. Scolabus indagato dipendente della Frat Arcangeli, sospetti sulla gara truccata. Primo iscritto nel registro degli indagati nella nuova inchiesta della Procura. Proseguiamo. Spauracchio, commissario all'Istituto Zoprofilattico. Contrasti, ricorsi e incertezza sulle nomine. Il rischio si fa sempre più concreto. Colledara, disabile investito da un'auto. Oggi i funerali e poi, parlando di università, il più grande esperto di cavalli, ospite del polo agro-bio-veterinario dell'Università di Teramo. Ancora cronaca dal capologo aprutino. Aslunica, il PD dice no. Il PD di Teramo, ovviamente, nella riunione di lunedì, preparato una bozza di documento politico per D'Alfonso e Paolucci. A Bisenti, assolto dopo l'arresto per maltrattamenti in famiglia. Baltour, Superbus per le nuove destinazioni. Il gruppo Teramano ha presentato i mezzi a due piani e le rotte del 2016. 20 milioni di investimenti nel prossimo quadriennio per l'azienda di autobus di Teramo in particolare. Proseguiamo con le altre pagine del quotidiano La Città. 10 milioni di euro contro le frane. L'annuncio di D'Alfonso a Teramo anticipa Mazzocca. Si comincia da Cermignano e Montorio. Alvomano, intanto la provincia, vedete l'articolo in basso, provvede per le strade di Valle Castellana. Variante al piano regolatore, pronto l'esposto contro i rictardi. Arriva la seconda rata IMU. Cittadini infuriati per le promesse sull'approvazione. Siamo a Tortoreto e a Santomero. Appaltata la gara per i lavori antisismici nella scuola proprio del centro della Val Vibrata. E poi la cronaca da Sant'Egidio. Casalinga, perseguita l'ex fidanzato e stalking. Solidarietà. Grandi ospiti al San Martino del Circolo di Nereto. Andiamo ancora avanti. Pagina di Giulianova Mosciano, centro polifunzionale al mercato coperto. Siamo a Giulianova e sempre per quanto riguarda Giulianova, D'Alfonso in città per annunciare i fondi già annunciati. Proseguiamo. Roseto, Pineto, Atri e Silvi. Dorazio ritira il ricorso al Consiglio di Stato, ma è pronto a presentarsi di nuovo al TAR contro l'elezione di due consiglieri. Parliamo della vicenda del Parco Marino del Cerrano. Silvi, blizzi antiabusivi al villaggio del Fanciullo. A Roseto con Ginobile ho pranzato una sola volta. A Roma per il voto su Mazzarella. Si parla delle elezioni amministrative della prossima primavera con Gatti, esponente di centrodestra, che in pratica non conferma, anzi smentisce, questa fronda che potrebbe danneggiare il sindaco uscente di Roseto, Enio Pavone, che abbiamo ascoltato ieri, tra l'altro nel nostro TG6, proprio su questa vicenda. E restando a Roseto, presentato ieri il primo corso di autodifesa per le donne. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Torniamo al quotidiano Il Centro per vedere i titoli principali che riguardano le formazioni di casa nostra. Partiamo dal calcio dal Pescara. Benalile, Giramondo, qui il calcio migliore di Bil, centrocapista del Pescara, dice abbiamo le qualità per restare in alto. Poi il Teramo, Petrella, Campitelli, merita una grande reazione. E poi l'Avezzano, Ferraria Menta, responso Amaro. Stop di dieci giorni, dunque non saranno della gara di sabato prossimo a Chiavari con Lentella. Tornando alla Lega Pro, parlando dell'Aquila, Trianico recupera, si blocca. Iannascoli, Serie D, Chieti, Via De Clemente, Ricucci e K.O. Giulianova verso l'attaccante Bonanni. Amiternina sul difensore Rea, tra poco aprirà il mercato di dicembre della Serie D. Infine basket e calcio a 5. Basket con la proger di scena a Mantua. Galli saremo agguerriti, dice il tecnico della formazione teatina. Per il calcio a 5 il Pescara è spento. Solo un pareggio con la Luparenze. Siamo alle pagine dello sport del messaggero. Benali, il calcio aiuta la pace. Ha parlato ieri al Poggio degli Olivi, il centrocampista di origine libica della formazione Bianca Azzurra ha parlato di pace ma anche di calcio e proprio della vittoria ottenuta con il Como e del prossimo impegno dei Bianca Azzurri di venerdì sera allo Stadio Adriatico con Lavellino. Andiamo ad ascoltare il giocatore del Pescara. Benali, da qualche partita è diventato un giocatore decisivo per il Pescara. Cosa è cambiato rispetto all'inizio per te? All'inizio non lo so. Magari non ho fatto il ritiro con questa squadra quindi ci volevo un po' di tempo ad adattare magari. Poi il Mist mi ha aiutato tanto. La squadra è anche un gruppo fantastico. Qui mi trovo molto bene, sento un giocatore importante però ci sono altri giocatori che sono importantissimi in questa squadra. Questa partita con Lavellino è importante dopo la vittoria di Como. Nell'ultima partita a Casalinga c'era stata questa sconfitta con la Ternana. Ora bisognerebbe tornare a vincere all'Adriatico. Sì, capita durante l'anno che perdi una partita, perdi due però sicuramente abbiamo dato un segnale importante perché abbiamo fatto una partita un po' difficile poi sofferto tanto contro il Como però alla fine abbiamo portato il caso tra i punti e adesso cerchiamo di fare lo stesso coso che Lavellino. Oggi la classifica dice play-off ma un pensierino almeno al secondo posto sotto sotto lo state facendo in prospettiva futuro ovviamente. Siamo capaci, siamo una squadra forte come giochiamo noi penso che non gioco come nessun altro poi dobbiamo vincere contro queste squadre abbiamo perso contro il Ternano però siamo tornati contro il Como dobbiamo vincere queste partite importanti contro squadre come Cesena, Spezia che sono contro il play-off quindi sicuramente vedremo in queste partite dove possiamo andare. Bellino, squadra ostica notoriamente difficile da affrontare avete già parlato con il tecnico della formazione campana? Sì, abbiamo la nostra idea poi sarà sicuramente una partita importante è una partita tosta è una squadra che ti attaccano non ti fanno giocare tanto però confrontiamo la partita come affrontiamo gli altri. Soddisfazioni per i due biancazzuri dell'Under 21 Mandragora e Verre Under 21 che vince ancora protagonisti i due pescaresi in particolare Mandragora vero gioiello del calcio italiano e poi siamo al Lanciano Lanini, Entella mi piacerebbe esserci il giovane attaccante del Lanciano ha disputato una buona stagione nel club Ligure e siamo al Teramo Lega Pro, Petrella, Campitelli merita una squadra Kellotti e poi l'Aquila Ligorio sono tornato e voglio restare calcio a 5, il Pescara è stanco pari con la Luparense e poi il basket Pro Gerchieti di nuovo in campo questa sera si gioca a Mantua nel recupero i teatini sfidano una delle squadre più forti del campionato Roseto risponde a Di Cosmo non prendiamo lezioni c'era stata qualche polemica dopo il derby domenica scorsa vinto dal Roseto Volley Sieco sconfitta senza attenuanti Di Meo dice non so cosa ci accade e chiudiamo con le pagine dello sport del quotidiano La Città soprattutto sport incentrato sul Teramo Calcio Petrella non fa calcoli dobbiamo vincere l'attaccante sulla lunghezza d'onda del presidente Luciano Campitelli difficile guardare la classifica noi invece abbiamo ascoltato il difensore della formazione Biancorossa Brugaletta Allora il presidente ci ha dato una gran carica perché il presidente è una persona che ha una carica interiore immensa è venuto dentro lo spogliatoio e ci ha detto ci ha detto quello che pensa di noi e quello che vorrebbe da noi ed è giusto perché si aspetta tanto da noi perché ha dato ci ha dato tanta fiducia e quindi noi adesso dovremmo ripagare la sua fiducia dobbiamo andare a Rimini e dobbiamo andare a fare il risultato per forza perché una vittoria ci darebbe anche morale siamo una grande squadra e non è questa la posizione che meritiamo quindi andiamo a Rimini andiamo a fare una grande partita e cerchiamo di fare il risultato chiaramente abbiamo fatto degli errori e ne siamo consapevoli adesso stiamo lavorando duramente nell'allenamento per cercare di non ripetere questi errori sia di riparto che singolarmente adesso col mister stiamo lavorando veramente stiamo lavorando tanto e speriamo in futuro di non ripeterli più quando parlo di lavorare io intendo tutto sia tatticamente che anche fuori dal campo a livello mentale noi abbiamo una grande squadra noi dobbiamo pensare partita dopo partita cercare di fare il risultato partita dopo partita e poi tireremo le somme comunque siamo una squadra da alta classifica ne sono sicuro che arriveremo dove meritiamo in bocca al lupo a Brugaletti al Teramo per questa importante partita di sabato in terra romagnola con il Rimini noi siamo giunti al termine dell'appuntamento odierno con Mattino 6 come sempre grazie per averci seguito vi ricordo il TG6 la prima edizione del nostro telegiornale come sempre alle ore 14 grazie e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti